La tela del Cinquecento che rappresenta i Santi Simone e Giuda Taddeo, da cui prende il nome l'omonima chiesa situata a Porta Bia nel quartiere di Santa Maria Maggiore, è stata recentemente restaurata da Enza Gulino e Antonio Alaimo, restauratori di Gangi. La presentazione è avvenuta nella serata del 20 ottobre durante la celebrazione della messa nella Basilica di Santa Maria Maggiore alla presenza della confraternita dei Santi Simone e Giuda, che ha promosso la raccolta ed ha contribuito economicamente al restauro della tela, un contributo giunto anche dal comune di Nicosia e da diversi cittadini. La tela è stata benedetta da padre Delfio Scandurra. Il quadro è collocato sopra l'altare principale della chiesa, è una rarità, uno dei pochissimi dipinti del Cinquecento Nicosiano sopravvissuti. Raffigura i due apostoli che vengono ricordati e celebrati insieme, che sono anche due degli apostoli di cui si parla nel pochissimo sia nei Vangeli che negli Atti degli Apostoli. La tela raffigura i due apostoli con gli strumenti del loro martirio, secondo quanto tramandato dalle memorie apostoliche di Abdiah, riprese dalle successive fonti ageografiche. Secondo questi apocrifi, i due avrebbero praticato in Persia dove furono uccisi dai sacerdoti pagani furiosi, poiché i due apostoli avevano fatto spezzare le statue pagane da cui fu riuscirono dei diavoli. Nel quadro Nicosiano Simone è rappresentato con la sega, mentre Giuda Taddeo con un libro nella mano sinistra e un'ascia nella destra. Il quadro rappresenta un unicum nel panorama artistico Nicosiano per i modi espressivi e il linguaggio artistico potrebbe essere attribuito ad un importante pittore palermitano del tardo del Quattrocento e primissimo Cinquecento palermitano, Riccardo Quartararo, il primo dei pittori palermitani del Cinquecento. Il 28 ottobre del 19 presso la chiesa dei Santi Simone Giuda Taddeo, nel giorno della memoria liturgica dei due santi apostoli, si terrà la presentazione del restauro della tela alla presenza dei due restauratori Enzagolino e Antonio Laimo ed è il professore Nino Contino.